Si è disputata nei giorni scorsi sul campo di Santa Croce di Bassano la decima edizione della partita del cuore organizzata dalla Iuso Sport Bassano a favore della Città della Speranza. Sul campo il triangolare di calcio è stato vinto proprio dallo Iuso Sport Bassano che ha prevalso sui promotori finanziari Mediolanum e sui medici del San Bassiano Football. La manifestazione è stata coronata dalla donazione finale di 6.000 euro alla Città della Speranza e ciò grazie anche all'operazione di raddoppio del ricavato. È stata così raggiunta la somma finale di 32.000 euro superando l'obiettivo per il 2017 che era stato fissato a 30.000 euro. Questa naturalmente è la vera vittoria.